Ci sono dei negozi nella mia città che ogni volta che ci passo davanti penso ma chissà che cosa saranno veramente questi posti? Mi spiego perché sono negozi che io ho visto sempre la saracinesca chiusa che non ci ho visto mai nessuno dentro oppure negozi che hanno pure una vetrina che io posso vedere passandoci davanti però che niente è tutto polveroso hanno le cose tutte messe accattastate una sull'altra giusto dove proprio nell'immediate vicinanze di dove abituo io ad esempio c'è una macelleria che da quando siamo venuti ad abitare qua adesso saranno quasi quattro anni fa niente ho visto sempre la saracinesca chiusa questi sono i rumori che vengono dalla finestra aperta poi c'è una merceria e lì c'è appunto una vetrina impolverata e nella vetrina ci sono le cose più disparate costumi da bagno ma buttati così alla rinfusa neanche appesi a una stampella niente proprio buttati così alla rinfusa gomitoli di lana pezzi di fettuccia voi immaginate tutte le cose che si possono trovare all'interno di una merceria questa merceria in modo particolare di volta in volta ha dei cartelli con su scritto affittasi a volte c'è scritto vendesi a volte addirittura ci ho visto dentro una persona era una persona che aveva la sedia proprio sull'uscio così che anche se una persona avesse voluto entrare per vedere quello che vende avrebbe dovuto letteralmente scavalcare la persona seduta nella sedia e questa persona è una ragazza giovane abbastanza giovane sempre lei che ogni paio di mesi la vedo seduta sull'uscio è confesso che la mia tentazione grandissima del vedere che cosa c'è dentro ripeto ultimamente ci ho visto dei costumi da bagno ma veramente di 20 anni fa durante l'inverno invece evidentemente aveva fatto il cambio stagionale della vetrina c'erano dei piumini ma anche questi buttati così senza grazia né disgrazia che sembravano veramente impolverati e poi non abbastanza antichi da essere vintage quindi proprio cose boh che non so se mai nessuno comprerà quindi non lo so non so se anche dalle vostre parti ci sono questi negozi che non si sa bene se siano la facciata ci sono anche diversi negozi che vendono scarpe simile a questa a questa merceria che hanno scarpe antiche non abbastanza ad essere vintage ma abbastanza che nessuno le compri ripeto non so se anche dalle vostre parti ci sono questi negozi strani che non si sa se siano aperti o chiusi